Buona domenica e buongiorno a tutti da Andrea Cartotto. Trasforma le tue idee in storie visive incredibili. Questo l'obiettivo ed il regalo che mi fa piacere condividere con tutti voi nel nuovo videocorso dedicato a una grande risorsa web per la didattica ed utilizzata per la sua potenza anche in chiave web marketing, Adobe Spark. Noi la utilizzeremo nella modalità video e approfitto per dirvi che Adobe in realtà si legge Adobe. Molti di voi lo conosceranno per via della lettura dei PDF, il noto programma gratuito Adobe Reader. Concentriamoci invece su Adobe Spark nella modalità video e vi ricordo che è anche a disposizione la app gratuita su sistema operativo ios dunque apple e sistema operativo android. Sito di riferimento perché siamo su una web application spark.adobe.com slash it trattino it. Non temete nel caso è possibile effettuare la ricerca tramite motore di ricerca google. Iniziamo con un clic su inizia ora o su accedi e attendiamo perché voilà abbiamo la consueta finestra in cui ci viene richiesto l'account. Vi suggerisco al momento di accedere sempre con account google. L'account google può essere personale o account google suite. Vado ad inserire il mio account gmail personale, confermo con la password e ci troveremo magicamente nel cruscotto, quello che in gergo in molte risorse si chiama dashboard, la bacheca, di Adobe Spark. La versione free, ve lo dico, è ottima per la didattica, genera un file video formato mp4 e appone soltanto una piccola firma a destra nel video e tra parentesi, come dico sempre a colleghi ed allievi, in questo caso è un servizio con un certo blasone, quindi è una firma che non crea alcun tipo di disturbo. Allora, numerosi servizi, li tratteremo magari in altro videocorso tematico, concentriamoci su diaporama, clic. Ogni storia eccezionale ha un inizio. Sto immaginando di creare ad esempio un video commentato con la voce dell'insegnante per la scuola primaria su Rodari, ma in realtà io potrei creare un video sul ciclo dei rifiuti, sul ciclo dell'acqua, sull'ambiente, le scienze per la secondaria di primo grado, infinite applicazioni anche per ordini di istruzione ancora più elevati. In questo caso do un titolo di riferimento Rodari, clic su avanti. Scegliamo un tema. Questi si chiamano template, dunque modelli, e sono modelli che affondano le radici proprio nella comunicazione e nel marketing. Tra parentesi, e mi tolgo anche gli occhiali, il docente è e deve essere un comunicatore, e quindi io ritengo che un docente debba anche avere questo tipo di nozioni. Allora diamo un pochettino a cliccare ad esempio mostra e racconta. Questo template è del tutto orientativo, non vi preoccupate i contenuti, li moduliamo e modelliamo noi. Lasciamolo un attimo lavorare ed avremo questa piccola guida, ti diamo il benvenuto. Adesso io la chiudo con la X, se non volete più vederla è sufficiente contrassegnare il cosiddetto flag, la spunta, il quadratino non mostrare più, con un click poi su ok o su X a piacere. Ed ecco la nostra schermata. Alcuni di voi che già utilizzano questi strumenti ravviseranno alcune somiglianze con il vecchio Windows Movie Maker. Forse sì, la linea del tempo che è quella con le diapositive azzurre in basso effettivamente è comune, ma qui lavoriamo su web e lavoriamo soprattutto con uno strumento moderno e veramente semplice da utilizzare. Ora io allestirò una barra due diapositive, poi esporterò il nostro lavoro e starà a voi mettere in pratica quanto visto in questa mia guida. Allora diamo magari un titolo, quindi per iniziare un click su T di testo e qui io vado appunto a scrivere Gianni Rodari. Guardate la semplicità d'uso, seleziono con il mio tasto sinistro premuto, T con il più per avere un font di corpo più grande, T con il segno meno per avere un font di corpo più piccolo. Ecco la famosa filigrana, la famosa piccola firma SP Adobe Spark che vi dicevo si vede nella versione Free. Questo microfono è eccezionale perché se io lo clicco una volta con il tasto sinistro mi potrebbe, ora gli do un ok, mi potrebbe la prima volta chiedere il consenso all'utilizzo del microfono. Io sto registrando dunque, il microfono è già con il consenso dato, ma se io tengo premuto tutto ciò che dico va a sovrapporsi, tecnica del voice hover, quindi oltre ai contenuti, alla mia diapositiva e io commento con la mia voce per i miei alunni. Tengo premuto, tasto sinistro. Cari ragazzi, ecco la storia di Gianni Rodari. Non appena lascio, il tasto sinistro, la registrazione è perfezionata. Attenti, è possibile avere anche oltre alla registrazione una colonna sonora, non, e mi tolgo nuovamente gli occhiali, con un brano mp3 di cui magari non possediamo la licenza per l'uso corretto, ma con brani già all'interno della piattaforma licenziati. Applichiamo anche l'etica digitale quando lavoriamo con lo strumento digitale, quindi un clic su musica. La musica è attivata, cioè la colonna sonora, e poi abbiamo alcune categorie di brani di colonne sonore da avere come sottofondo del nostro lavoro. La voce del docente, essendo un voice hover, si sentirà sempre. Qui vedete che c'è un sweet arrival, una colonna sonora calda che fa solo da accompagnamento, e come vedete con quel piccolo interruttore si può anche togliere. A questo punto proseguiamo nel nostro lavoro. Allora, la musica, possiamo insomma attivarla o meno, io tornerei per un momento sul nostro tasto layout. Layout è il modo con cui visualizziamo le pagine. Un clic su pagina 2. Ecco, qui voglio fare una cosa diversa. Guardate, clicco a destra su schermo diviso, e ho uno schermo fatto a pagine di libro. Ora, anche per un utilizzo domestico, o per i bimbi più piccoli, per far vedere loro un qualche cosa, potrei fare una videoricetta, un videoracconto. Ecco, parlando di Gianni Rodari, io qua vorrei avere a sinistra e a destra due diverse immagini che simulino quindi l'idea del libro. Come faccio a caricare una immagine personale? Vado a cliccare su foto. Alla stessa maniera vi faccio vedere che cliccando su td testo o su video posso acquisire dal mio computer, dunque già presenti, un video o un testo. Clicco su foto. A questo punto possibilità di ricerca all'interno di foto gratuite, gratuite da intendersi di stock, cioè di repertorio con la giusta licenza di uso, altrimenti un semplice carica la foto per acquisirla dal mio computer. Io vado sul mio download, dove avevo già preparato le due immagini di Rodari. Allora, io clicco qui su questa immagine, un classico formato JPEG di Gianni Rodari, clicco su apri, ed ecco che a sinistra ho l'immagine di Rodari per l'appunto. 100 Gianni Rodari, 100 storie filastrocche. Poi vado sul più a destra, clicco, nuovamente foto, abbiamo nuovamente carica la foto, e vado a selezionare in questo caso Rodari 2 sempre nella cartellina dei miei download. Clicco su apri. Ed ecco qui la foto a nostra disposizione, il gioco dei se. La matitina che vediamo in alto con un clic presenta una lente con il più e una lente con il meno. Guardate la meraviglia. La lente con il meno mi consente, perché io in realtà potrei non aver previsto o non voler prevedere quanto debba essere grande l'immagine, ma la posso perfezionare. Ed ho il gioco dei se. A livello docente la meraviglia è quella di poter ora tenere premuto tasto sinistro l'icona del microfonino e leggere questa filastrocca agli alunni. Il gioco dei se. Se comandasse Arlecchino, il cielo sai come lo vuole? Non appena lascio il tasto sinistro, registrazione fatta. Guardate, una risorsa veramente da tenere nella cassetta degli attrezzi del docente. Mi permetto anche di dire che una delle risorse di cui parlo da anni nei miei corsi in presenza, proprio per comunicare che questi strumenti badate non nascono ora e diffidate da sedicenti esperti o da chi in questi momenti proponga o segnali risorse casuali reperite in rete con ricerche magari fatte un po' così. Ecco quindi la nostra presentazione. Potrei andare avanti, ma lascio il lavoro a voi. Ogni paginetta, se io la clicco, naturalmente mi permette la composizione. Se non la voglio, clicco sui tre pallini, vado poi su elimina ed ecco che poi confermando con sì elimina la diapositiva, accorcio di quanto mi occorre. Nel momento in cui ho terminato, attenzione, un clic su scarica in alto. Attendiamo che l'applicazione web elabori il formato video, che ricordo sarà un mp4, e lo scarichiamo sul nostro computer. Come gestire il video? O inseriamo, se non è molto pesante, il file mp4 nei nostri ambienti di apprendimento, o io consiglio la solita regola di caricare il video sul canale YouTube del docente. Se non lo si vuole rendere pubblico, lo si imposta come non in elenco e si porta sul registro elettronico, su Classroom o altrove, il suo link. Diamo ora il nome al nostro file, rodari.mp4, con un clic su salva, avrò generato il mio diaporama, il mio video, con immagini. Di fatto quindi una sequenza video che può contenere video stessi, immagini, testi o icone. Il mio video, con colonna sonora, con immagini, con commento vocale del docente. A questo punto avete uno strumento che tra l'altro molti colleghi mi hanno chiesto. Fatene buon uso e vi do appuntamento al prossimo videocorso. Un saluto da Andrea Cartotto.